Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Generali condizioni di tempo stabile sulla Liguria grazie all'alta pressione presente su buona parte del continente europeo. Solo giovedì avremo un temporaneo peggioramento con nubi e deboli piogge sparse. Nel fine settimana possibile ritorno dell'alta pressione seppur disturbata da veloci passaggi nuvolosi, temperatura indecisa aumento domenica. Il dettaglio oggi, martedì 4 giugno, soleggiato lungo le coste con addensamenti di nubi basse nelle ore serali notturne, specie sul centro ponente. Nel corso del pomeriggio possibile sviluppo di locali rovesci o temporali più probabili sulle Alpi Marittime, venti deboli in regime di brezza con locali rinforzi fino a forti sui rilievi del centro e dai quadranti meridionali. Mare poco mosso su tutti i settori, temperature massime stazionarie lungo la costa tra 22 e 24 gradi, nelle zone interne tra 23 e 27 gradi. domani, mercoledì 5 giugno, sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, venti in regime di brezza fino alle ore centrali, in circolazione ciclonica nel pomeriggio con rinforzi da sud-est fino a moderati sui rilievi di centro e sui capi esposti di Levante. Mare quasi calmo o calmo ad ovest di Portofino, poco mosso altrove, moto ondoso in aumento fino a mosso in serata. Temperature minime stazionarie lungo la 16 e 18 gradi nelle zone interne tra 9 e 16 gradi, massime stazionarie lungo la costa tra 22 e 25 gradi nelle zone interne tra 22 e 27 gradi. Dopodomani, giovedì 6 giugno, temporaneo peggioramento con nubi e precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, venti tra deboli e moderati da sud-est con locali rinforzi specie sui rilievi e i capi esposti. Mare mosso, temperature minime stazionarie lungo la costa tra 16 e 19 gradi nell'interno tra 10 e 16 gradi, massime diminuzioni lungo la costa intorno 20-21 gradi nelle zone interne tra 17 e 21 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina Facebook di Arpal. A risentirci!